ragazze buongiorno e ben ritrovate sono ritornata eccomi qua se mi vedete un po sbatacchiata non non vi preoccupate tutto ok informazione di di servizio prima di cominciare con le nostre faccende intervento fatto il 30 andato tutto bene se mi vedete qua andato tutto bene ovviamente adesso in questo momento che vi faccio il video o ancora i punti la fascetta è stato un intervento al ombelico l'ernia ombelicale con riparazione dei muscoli intorno vabbè tutto a posto state tranquilli adesso sono in convalescenza piano piano mi riprenderò però grazie a buon dio sto abbastanza bene ok che cosa faccio in questo video visto che sono un pochino indietro perché sappiate che ogni mese vi faccio il video dei finiti del periodo ora vi faccio vedere che proprio finita nel mezzo di ottobre e direi di partire fatto con un proprio che non mi è piaciuto per niente non ve la consiglio non lo so sui miei capelli non ha funzionato ma aspettavo di più da questo prodotto anche perché un prodotto novità io non l'ho mai visto è della splendore un balsamo olio splendente per capelli spenti illuminante vi dico che l'ho usato tre volte dopo di che l'ho buttato via mi faceva i capelli durissimi ma proprio durissimi credo che nemmeno un altro tipo di balsamo di 90 centesimi non avrebbe fatto perché questo l'ho pagato un euro qualcosa vabbè siamo sempre lì però ragazzi dovrebbe farmi i capelli morbidi non c'è questo secchi secchi poi ho finito questo shampoo della frank provo con latte idratante per capelli crespi difficili da lisciare io ve la raccomando a me piace i prodotti mi piacciono tantissimo i prodotti di frank provo sono prodotti professionali che non costano tantissimo nel senso che puoi permetterti di acquistare i loro prodotti hanno anche delle belle maschere io questo è un prodotto che non l'ho finito in arco di un mese qualche mese abbondante però l'ho finito a fine di ottobre quindi ve lo presento poi di bioncene ho due bagno schiuma con due profumazioni diverse questo qua con oligo minerali buonissimo questi bagno doccia mi piacciono sapete perché il costo bassissimo e la profumazione che si mantiene per qualche ora sulla pelle e ovviamente anche la la pelle non te la seccano mi piacciono tantissimo io le ricomprerei sempre ve la raccomando questo l'ho scoperto da cadiz una scoperta che non mi aspettavo che palmolive perché palmolive a volte non è che faccia bagno schiuma così buoni invece questo qua mi è piaciuto perché aveva l'estratto di olio di cocco e lavanda e anche adesso sulla pelle profumazione a lungo delicata ma la pelle la pelle vi devo dire liscia come un bebe poi per capelli sempre ho finito anche questo shampoo nutriente illuminanti per capelli spenti a del brand pura vita questo è un brand che io l'acquisto da mio amico sul mercatino rionale però io l'ho visto anche nei negozi un ottimo prodotto sembra dal mercatino rionale dal mio amico ho finito questo latte corpo di anaya che ci sono ancora in casa ragazzi se lo trovate in giro andate magari sul sito di lei madonna questo credo che il miglior latte corpo che ho mai usato negli ultimi periodi a parte alla profumazione che ti rimane sulla pelle delicato ma non vi dico come vi lascia la pelle scusate poi questo questo è il prodotto che a me alla sera mi fa dormire è un olio doccia che olio bano lo potete mettere anche nella vasca se avete che vi rilassa io questo periodo non posso fare la doccia mi lavo solo con le salviette quelle apposta per il corpo ma quando riprenderò mi farò delle coccole intanto ce l'ho un altro flacone in casa è un prodotto di balea l'acquisto da dm ottimo ovvio bisogna che vi piaccia la lavanda perché se non ti piace il profumo di lavanda non ha senso ce n'è un altro anche col estratto di timo e menta credo però quello mi sembrerebbe troppo ora che entrava un periodo invernale mi sembrerebbe troppo fresco non so credo che quello lì d'estate funzionerebbe bene lo vorrei provare ma in un periodo quando farà più caldo adesso non è il momento schiuma per il viso di balea per le pelle miste grassi ho già detto con la schiuma faccio la doppia detersione la utilizzo in generale a sera mi piace prezzo ottimo anche questo tonico di equilibra con estratto di rosa mi è piaciuto anche lui poi da dm avevo trovato questo prodotto che è un tonico purificante del brand herbal essentials mi è piaciuto tantissimo ovvio a un pochino di costo però ragazzi questo per la pelle mista grassa ha funzionato da dio mi è piaciuto tantissimo poi il mio amatissimo struccante e fiducioso perché rimarrò fiduciosa a questo struccante di si e lo so è un prodotto economico che si trova lidl però credo che sia il migliore in assoluto credetemi ne ho provati di tutti i tipi colori solo quello in bagno adesso anivea che non mi piace per nulla però dovrei finire poi di cloren ho finito questo tonico bara serum gel che l'ho usato tutta l'estate molto buono è un prodotto francese di lusso perché non costa poco però poi dire box questo serum per il viso della collezione cherry blossom ragazzi ottimo mi piace tantissimo sia la profumazione ma anche come lascia la pelle ma se vuoi la abbinate insieme alla crema quella con la texture leggera è una crema 24 ore quindi quella la potete utilizzare se al mattino alla sera io ad esempio lo uso alla sera vedrete un risultato ottimo poi prodotto che praticamente lo declatero nel senso declatero che l'ho proprio lo caccio non lo vuole più vedere io penso che l'avevo già comprato una volta ma non mi ricordavo e l'ho ripreso assolutamente no scusate mi sto soffocando è un struccante bifasico di al verde per gli occhi nomi a parte l'odore di rancido che non so se com'era sembrava pronto andato al male ma non strucca per niente c'è praticamente manco l'ombretto lo toglie non lo so prodotto pessimo mi dispiace dirlo perché i prodotti di al verde sono buoni ma questo d'odorante di dove per le ascelle d'odorante di palea buono anche questo ma se siete di quelle tipe che sudate abbondantemente nel periodo estivo non ve la consiglio perché dura poco poche ore tiene tiene di più quello di da però adesso che l'inverno io di solito nell'inverno la la uso poi assorbenti lo so che la gente diceva perché fai vedere è perché ve le raccomando che sono buoni se avete un ciclo abbondantissimo queste per la notte sono eccezionali questi anche cioè non lo so tanto siamo donne non è che la maggior parte qua sono donne che guardano i miei video non credo gli uomini dischetti struccanti di sien questi qua le hanno migliorate perché le hanno fatte al cotone sono molto buoni vi devo dire salviette struccanti di sien pepele misti normali sapete che se le uso solo per risuoceremente mi strucco con quel genere di prodotto poi crema viso da giorno del brand zero macchie di pigmentante mi è piaciuto tanto questa l'ho acquistata da hypercop ve la consiglio se avete discromie solari anche un fattore di protezione 30 potete abbinarla anche al suo siero io non avevo comprato il siero perché ce l'ho altri sieri se avete discromie fortissime lo usate la mattina eventualmente potete aggiungere anche un 50 di protezione sopra questa crema ma è top poi un labello perché no finiamo anche questi poi oltre ombretti di micchi micchi vi ho già detto tante volte un brand per quale con quale io ho il codice di iscrizione sono un rappresentante anche se lo faccio sulla livello online e quindi un brand polacco se vi interessa qua ci sono tre ombretti in crema che le declatero perché sono da tanto sono seccati come anche questi due che sono quasi finiti di douglas sono due mascara uno viola e l'altro verde colorati questo di catrice che è un mascara da viaggio anche lui finito questo ragazze io non lo so a me piace tantissimo questa linea di essence di mascara non vi devo dire nulla anche mi è piaciuto anche questo waterproof in variante waterproof quindi finiti pure loro poi patch occhi di al verde si sono bustine così ve le consiglio ottime patch occhi di stay well buonissimi con la vitamina c queste le compro da dm come anche quelli di al verde patch occhi di adegua questi qua anti rughe anti age anti smog e così via sperate che ve le faccio vedere perché ne ho un bel po eccoli qua cioè questi qua marroncini sempre che le acquisto da ipercop ma hanno anche il loro sito quindi voi se volete potete entrare anche sul loro sito e acquistare direttamente da lì se non avete copo ipercop nel nelle vicinanze e anche questi sempre di adegua che sono con effetto lifting con collagene naturale poi patch occhi di hedge sempre che li prendo da dm questi mi sono piaciuti tantissimi sempre acquistate ipercop di florena ma florena lo trovate anche a cadiz di quota dipende del delle delle drogherie diciamo dove le tengono varie anche acqua sapone ad esempio cercate anche lì queste qua della garnier le trovate dappertutto per ciò chi tipo maschera buonissimo fate attenzione che queste hanno un sacco di liquido io vi devo dire che un pacchettino mi è bastata per quattro utilizzi perché recuperavo i patch le pezzette queste qua quando si asciugava rimettevo dentro che devo con una moletta e quattro volte mi sono fa perché hanno tanto liquido poi mascherina tipo di questa qua di royal beauty con la faccina del un orsetto non lo so cos'è molto buona ragazzi se trovate questo genere di maschere anche se sono un po buffe compratele perché fanno la pelle non vi devo dire come poi anche questo mi è piaciuto tanto queste qua io le ho trovate sia da cadiz sia da tigota poi queste quasi roca sono dei pad esfolianti imbibati di un tonico esfoliante devo dire che io ho visto che sono buoni tutto quanto però vedere quell'effetto super luminoso non è che l'ho visto ma perché mi riparte un disclaimer non per parlare male del brand anzi è un brand buono perché il coreano è che io ho una pelle molto curata e da me non è che si potrà vedere quell'effetto wow ma su una pelle che non non tiene costanza nella skin care si potrà vedere ve le consiglio costicchiano un po però un prodotto buono royal beauty questo siero buonissimo mi è piaciuto ce l'ho in casa ancora qualche altra bustina e la utilizzerò con piacere questi pad ve le consiglio sono buonissimi di frudi anche dei se li trovati da dm buonissimi per usare una volta a settimana passarli ed è facile per farvi la esfoliazione viso utilizzando loro e ultimo ma non per importanza una crema una maschera viso detox con te verde argila e estratto di salice bianco presa da cadiz ottimo prodotto per il costo che a 99 centesimi e qui concludo questo è tutto mio shopping shopping si buonanotte sto pensando al shopping perché mi mancano mi posso ancora spostare fuori sono ancora convalescente quindi devo stare a casa però prima o poi ci andrò a fare pure shopping vi mando un bacio grosso non dimenticate di seguirmi su tutti i miei profili li trovati elencati nel nel profilo se no in info box fatemi sapere nei commenti che cosa avete utilizzato voi cosa vi è piaciuto cosa vi ha portato la curiosità di andare a comprare qualcosa in quello che ho utilizzato io e noi ci vediamo alla prossima ciao